E rieccoci con il vergo liscio, il meglio del vergo liscio di questa stagione La stagione incompiuta, una stagione davvero particolare Però vogliamo approfittarne per vedere quanto è accaduto E non possiamo che iniziare con l'intervista di Marco Amoni E quello che accade dietro con un trasporto Il rampa di lancio con Daniele Visi Scusate Si va con Monti Tortora Selvaggio Tocca a Camilletti Il portiere Nardi Malvera Corinne Merli e il fallo laterale Di Genaro su Barzellotti De Logu su Vittorini Il campionissimo Hankerson Quinti e la Borgia La spara Ruggero L'autogol di De Carli Il rigore di Toscano Monachesi di Petto Caravani E poi i protagonisti le pallonate sulle telegamme Viene prima il calcio E poi la palla a volo Il famosissimo gol di mano di Limbardi La storica caduta del tifoso del Civitavecchia Funari e la Rosa Gian Vincenzi di Testa La Rosa in contropiede Gifkovic e Nardi E chiudiamo con Pirulisi e Mancini che si scontrano E le risate di Toccio Sanzolini Gifkovic e Nardi Gifkovic e Nardi Buon plats Buon plats Il rigore di Mof veure di Toccio Sanzolini Il rigore di Toccio Sanzolini Il rigore di Toccio Sanzolini Il rigore di Mof 먹어�